milan 1 sassuolo 2 milan 1 sassuolo 2 ragazzi già mi sono sfogato prima e penso che vada bene già mi sono sfogato prima e penso che vada bene ma mi dite come si fa come si fa col sassuolo col sassuolo in casa sono dei morti dei morti dei morti con la juve si scansano con la lazio si scansano col napoli e col milan che il napoli lotta per lo scudetto il milan lotta per la cento sono dei fenomeni sono il presente dei fenomeni sono dei fenomeni diventano dei fenomeni che quel politano non so che un extra rs manco l'ho messo al fantacalcio c'è ma donna ma non me ne frega manco più neanche il fantacalcio ma non si può proprio buttato un campionato per la cento della cento mamma mia questa volta ragazzi ma prendo veramente con gattuso tu non puoi mettere andresilva 52esimo minuto facendo un 3 sembrava un 262 una cosa del genere ragazzi clamorosa cioè a un certo punto stava che si terzino qui oggi secondo me la responsabilità è tutta di gattuso c'è tu mamma mamma mia tutti i crampi avevano quelli giocavano in otto erano dei morti viventi noi siamo riusciti a subire gol perché perché gattuso perché gattuso ha fatto quel cambio che non serviva a niente era tanto bello un 433 li avevamo in pugno ragazzi non riuscivano a giocare loro col 433 al primo tempo non hanno fatto un'azione noi al primo tempo abbiamo fatto molto di più rispetto al secondo abbiamo fatto molto di più se gattuso non avessi messo andresilva al posto di abate cioè ragazzi abate ha tolto andresilva ha messo abate avevamo la partita in pugno riuscivamo sicuramente a trovare il vantaggio però purtroppo per questo abbiamo buttato una champions e pure il telefono casca vai non si può non si può poi ragazzi l'85esimo senato cani ci fai tanto bull non servo un cazzo non servo un cazzo poi vabbè l'arbitro lasciamo stare arbitraggio zero palle in mezzo uno casca in aria calcio di punizione casca in aria calcio di punizione casca in aria calcio di punizione ma non arbitrare più non lo sai fare non arbitrare non arbitrare non arbitrare non arbitrare mamma mia perché abbiamo buttato veramente un campionato abbiamo buttato un perché 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 avevo fatto quando il sassolo avevo pareggiato anche il napoli ha buttato uno scudetto perché ha pareggiato uno con sassolo il sassolo con la juventus c'ha perso 7 a 0 cioè ragà ma io non vorrei dire niente ma sono messa solo con molte squadre si scansa con molte squadre si scansa cioè con la lazio ci ha perso 6 7 a 1 ma dai ma che cosa stiamo dicendo ma che cosa stiamo dicendo ma che cosa stiamo dicendo col sassolo 1 a 1 col sassolo 1 a 1 perché poi tu sei messo silveto il tabate li avevamo in pugno non riuscivano più a fare niente hai messo quei due e poi sono rimasti musacchio e bonucci grazie che prima o poi qualche tiro te lo fanno una roma incolpevole anche salvato nel primo tempo però che palle che palle adesso manco più ha senso vedere le partite cioè ragazzi per una volta che l'inter aveva perso potevamo recuperare 2 3 punti fondamentalissimi invece noi abbiamo recuperato un punto che quel punto non ci serve a niente perché la lazio ha vinto quindi non serve a niente non serve a niente veramente incredibile ragazzi sto un po' calmando comunque speriamo ma che speriamo che speriamo ecco ragazzi Grazie a tutti.